Dai questo la registriamo pure per sicurezza Lago Ok ok Fattoria? Si si Tutti in casa Tutti insieme Tutti dentro la casa Fattoria Poi giocata con due tipi comodi Per avere tipo 5 kg Non è la recad italiana Fanno a terra adesso A terra uno A terra l'altro Uno fatto Perfetto Lancia i razzi pure Come stanno questi ragazzuoli Ma avete colpito i razzi? Si 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 Oh mi sono sparato Grazie andiamo Vento l'acqua Medikit Minchia Non ti serve Io oggi raga ho fatto una nuova kill Dalla distanza Della Del capitolo 2 240 metri Eh si si Guarda 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 Aspettami Aspettami Ah poi pucca assano Vai 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 Ok Ora si Vai 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 Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. 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 Ok, ok.